Verso le amministrative a Marostica è tutto tace, o almeno spuntano qua e là dichiarazioni sporadiche rigorosamente lontane dai microfoni sui candidati al prossimo lustro di governo della città degli Scacchi. Qualche giorno fa l'ex vice sindaco Simone Mattesco, uno dei nomi papabili, ha assicurato di chiamarsi fuori dai giochi. Pure Cinzia Battistello ha ammesso di non pensarci proprio a scendere in campo per la poltrona del palazzo municipale e assieme a loro anche l'ex sindaco di Marostica Valerio Zanforlin ha fatto sapere di non voler correre assolutamente alla poltrona di sindaco. Fuori tre. Resta l'ex Marica dalla Valle che si è vista crollare il castello in mano e che ora ritenterà nella ricostruzione dopo il commissariamento non certo un bene per la comunità. Il PD dal canto suo potrebbe puntare, come abbiamo più volte detto, sul nome di Giorgio Santini, figura decisamente di spicco. I Cinque Stelle che alle ultime politiche hanno fatto il pieno di voti anche in questo territorio potrebbero ricandidare Gedorem Andreatta e potrebbe tornare a dar battaglia dopo anni di lavoro in sordina anche Gianni Cettro che ha condiviso con la Dalla Valle l'esperienza del commissariamento. A proposito di commissariamento abbiamo sentito la commissaria straordinaria di Marostica, Renata Carletti, chiamata per la seconda volta a reggere la città. Il mio obiettivo è quello di portare avanti l'ordinaria amministrazione dell'ente e di risolvere i problemi quotidianamente. Senta, di cosa ha bisogno questa città? Ha bisogno che la prossima amministrazione cominci a lavorare e porti avanti tutta una serie di progettualità e quindi continui il lavoro che è stato già iniziato. Insomma, fatti non parole, di questo c'è bisogno e intanto continuiamo ad attendere che qualche candidato esca allo scoperto.